Regole al tempo del coronavirus Se hai la febbre, resta a casa Lava le mani spesso con acqua e sapone Lava le mani con il gel disinfettante Non toccare occhi, naso, bocca con le mani Copri la bocca e il naso se starnutisci Indossa sempre la mascherina Evita i contatti, evita i luoghi affollati Evita le strette di mano